salve ragazzi ci sono di nuovo in realtà questo è un filmato girato subito dopo quello che avete già visto sul trapano avvitatore e già che c'avevo il tavolo nel mezzo della stanza li sto facendo tutti di fila uno dietro l'altro questa volta vi parlo di un di un elettroutensile questa volta non a batteria ma a corrente con la spina proprio che ho acquistato in questi giorni proprio per fare questo lavoretto qui sul tavolo è un seghetto alternativo di marca questa volta è un blackhead hacker non mi ricordo il modello ma adesso lo andiamo a vedere sulla pagina amazon economicissimo che fa esattamente perché deve fare che costa pochissimo va bene veramente anche questo per chi questi lavoretti li fa una volta ogni tanto ok allora andiamo a vedere subito la pagina di amazon buona visione allora ecco la pagina amazon come vedete l'ho comprato proprio in questi giorni il 28 di gennaio e ho avuto subito modo di metterlo alla prova è un oggettino molto molto semplice vedete il prezzo è è bassissimo tra l'altro in questo momento è scontato del 25 per cento ecco 30 euro mi sembra il prezzo giusto 40 euro il prezzo originale secondo me sarebbe stato anche un po troppo alto io ho preso il modello da 400 watt non dovendo tagliare diciamo spessori elevati ok ho preso quello da 400 watt e insomma diciamo che l'oggetto è veramente molto semplice adesso lo vedremo non c'è nessuna valigetta è confezionata in una scatolaccia di cartone ma il suo dovere per la verità lo fa andiamo sul tavolo e vediamo di cosa si tratta allora eccoci sul tavolo abbiamo questa bella scatola bella lucida così si vede il riflesso della ring light e questa ring light non va bene ci devo mettere degli illuminatori che ho e che vi farò vedere in una prossima recensione scatolaccia di cartone niente di particolare black decker articolo k s 501 400 watt profondità di taglio oddio qui si apisce poco ma insomma diciamo che sembra che nel metallo arrivi fino a 10 mm cosa dubito molto ma comunque vabbè angolo di inclinazione di taglio da 0 a 45 gradi anche qui c'ho dei grossi dubbi e velocità fissa non c'è nessuna assolutamente non c'è nessun tipo di regolazione sulla velocità non ve lo farò sentire in movimento perché fa un rumore infernale sembra una specie di locomotiva quello che mi ha diciamo attirato di questo oggetto la prima di tutto io l'ho comprato perché come vi ho detto di questo oggetto veramente ne farò un uso veramente molto molto saltuario cioè una volta ogni morte di papa per cui non mi serve assolutamente avere un oggetto professionale che mi garantisca una lunga durata nel tempo è un oggetto che verrà usato pochissimo per cui diciamo tanto per dire che ce l'ho e che non devo segare a mano ecco tutto lì vediamolo subito così vedete ci ho messo un pezzo di scotch carta qui ci sono tutte varie caratteristiche spiegano varie cose vabbè c'ha due anni di garanzia breakhead e diciamo che la marca c'è ecco due anni di garanzia ci sono e comunque i commenti su amazon se lo andate a vedere sulla pagina ci sono parecchi commenti tutti positivi per quanto possano contare i commenti di amazon allora confezione veramente brutale cerchiamo di spacchettarlo rapidamente lama in dotazione una sola lama che non si sa bene se ha legno se ha ferro io ci ho tagliato del legno senza nessun problema ok una lama poi qui abbiamo il il seghetto che io ho lasciato nel suo nylon e qui abbiamo io ho acquistato anche per sicurezza un set di lame di ricambio con vari tipi di dentature che mi permetteranno di tagliare materiali più o meno spessi ok per cui questa magari è un è un accessorio che ho comprato io ma che penso che eventualmente mi possa poi servire allora abbiamo manuale ovviamente rigorosamente anche in italiano per fortuna si fa riferimento a delle figure che sono nelle prime pagine ok per cui qua ci sono tutte le figure con tutte le spiegazioni questo è un manuale che va letto assolutamente non si può non leggerlo ok e praticamente qua poi nel manuale si fa tutte le cose tutte le diciamo il modo di assemblarlo il modo di usarlo e il modo di regolarlo ovviamente in questo manuale sono riportati anche altri modelli per cui ci saranno anche diciamo dei riferimenti con altri modelli questo è veramente è il modello di base questo è l'oggetto in tutta la sua semplicità allora alimentazione come vedete a corrente con ovviamente cavo non non proprio corto corto diciamo la lunghezza giusta qui chiaramente ci vuole una prolunga e presa tedesca allora è inutile che ve lo dica ma io comunque ve lo dico lo stesso regola fondamentale da rispettare tassativamente quando si usa questo tipo di elettro utensili quando si deve mettere le mani sull'utensile per manutenerlo per cambiare l'inclinazione per inserire e togliere la lama è sempre tassativamente staccare la presa di alimentazione l'utensile deve essere completamente morto non ci deve essere nessuna possibilità neppure per sbaglio che l'utensile parta perché sennò succede un disastro si va all'ospedale dritti dritti e non c'è bisogno di dirvelo lo sapete ma io comunque ve lo dico lo stesso allora vediamo un pochino come è fatto colore classico arancione black e decker manico in gomma buona presa buona presa bel pulsantone regolazione di attivazione addirittura con due dita ok bene non mi ricordo se è graduale o meno ma non mi pare proprio questo qui quando si pigia questo parte va a una velocità fissa non c'è regolazione di velocità ha il pulsante per il fermo del dell'alimentazione cui si preme se si deve tagliare una superficie di legno abbastanza lunga si preme e si pigia il pulsante in modo che il il tasto rimanga premuto poi per bloccarlo si freme il tasto un po più in dentro il pulsante si sgancia e l'utensile si ferma ok allora vediamo ora soltanto le due uniche cose c'è da avere su questo utensile cioè com'è il sistema di montaggio della lama e com'è il sistema di regolazione dell'inclinazione allora montaggio della lama vediamo se con l'autofocus si riesce a far vedere nei modelli superiori della black and decker e non solo della black and decker ci sono dei sistemi di montaggio rapido della lama sono molto pratici cioè praticamente ci sono delle levette che si ruotano si allenta la presa si inserisce la lama e poi si ristringe la levetta e la lama rimane bloccata qui c'è il sistema classico vecchio sistema secondo me poi alla fine è quello più diciamo così affidabile seppur quello più scomodo cioè abbiamo proprio le due classiche vitacce a taglio se le vedete eccole lì non si fa altro che infilare la lama qui dentro dentro questa specie di v ok per così chiaramente con i denti girati dalla parte esterna ok prima cioè prima si allenta le viti si infila la lama dentro finché va abbattuta e poi si restringono le viti poi con la mano si prova a muovere la lama e la lama non si dovrebbe più muovere dovrebbe stare saldamente avvitata attenzione prima di montare la lama è necessario allentare il carrello di scorrimento perché se ci fate caso forse non riesco nemmeno a farvelo vedere qua c'è una piccola ruzzolina rondellina ok che fa da appoggio è una rondella in metallo ok che fa da guida di appoggio per la lama cioè la lama mentre taglia ovviamente è sottoposta a uno sforzo cioè tende un po' a piegarsi un pochino all'indietro no se si fa forza ecco questa rondellina qui invece gli sta di dietro e la legge dritta chiaramente quando dobbiamo montare la lama questo carrellino va allentato svitando questa brutale vite anche questa qui una vitaccia a taglio s'allenta il carrellino va un po' indietro si monta la lama si stringano le viti una volta la lama è fissata si riporta il carrellino in modo tale che questa rondellina vada a toccare sul retro della lama per dargli appunto il giusto sostegno quando scorre in su e in giù il carrellino è semplicissimo direi quasi un pochino insomma bruttino ecco per la verità se vedete questa vite qua è quella che vi permette di dare la regolazione dei gradi dell'inclinazione del taglio ora sinceramente io l'ho provato ma insomma secondo me è una regolazione del taglio che fa un pochino ridere ecco perché si regola tutto molto molto male ecco su questo diciamo che l'utensile mi ha un po' deluso io ci ho fatto un taglio dritto per cui ho allentato la vite ho dato dei colpetti qui al piatto in modo tale che stesse più dritto possibile l'ho ristrinte e basta ma sinceramente qui dei tagli obliqui ma non lo so ecco forse dovrei andare a studiare un po' nel manuale probabilmente questa scanalatura può servire per dare i tagli obliqui ma insomma io qualche dubbio ce l'ho ecco sinceramente qualche serio dubbio ce l'ho sulla possibilità di tagliare in obliqui nutro qualche dubbio qui invece abbiamo un altro un altro accessorio diciamo un altro punto di serraggio che non è dotato di alcun accessorio ma questo serve per montare vendano vendute separatamente delle diciamo delle guide a t c'è una sbarrettina di metallo che entra qui dentro e viene fermata con la vite qua c'è una guida a t per fare i tagli dritti appoggiandosi sul bordo del legno questo potrebbe funzionare e qui abbiamo il classico il classico diciamo la classica protezione per diciamo per la mano ora voglio dire uno su questi oggetti qui con le mani ci deve stare sempre molto molto lontano ecco non abbiamo nessun laser non abbiamo niente di particolare qui questo è un oggetto veramente basilare assolutamente elementare ma che costa talmente poco che se uno deve fare un lavoro una volta ogni morte di papa questo è più che è sufficiente cioè probabilmente durerà una vita come durano una vita gli utenti riprofessionali se poi uno vuole avere degli oggetti migliori ce n'è quanti ne volete allora recensione velocissima già terminata sull'oggetto c'è ben poco da dire è talmente semplice ed elementare che c'è veramente poco da dire ripeto le uniche due cose che mi hanno diciamo invogliato all'acquisto sono la marca blackhead che non è una marca professionale ma comunque è una marca e voglio dire ormai è da anni e anni e anni è sul mercato per cui non credo si voglia scusami termine sputtanare con utensili farlocchi ok e i commenti degli utenti che erano numerosi e positivi probabilmente tutti gli utenti e come me lo useranno due tre volte l'anno non di più ecco ripeto questi sono attrezzi che vanno bene per usi saltuari ok se sono attrezzi se devono essere attrezzi dal lavoro non bisogna acquistare questi oggetti bisogna andare su altro genere di oggetti che costano centinaia di euro e che sicuramente hanno caratteristiche superiori vi ho detto tutto per questo oggetto come sempre domande me le mettete nei commenti iscrivetevi anche se volete al mio canale su la piattaforma odyssey io vi do appuntamento al prossimo filmato riguardante un altro elettro utensile ciao